Trenord non accoglie le richieste dei pendolari cremonesi e addirittura fa il contrario. Il sindaco Gianluca Galimberti ha domandato alla regione di togliere dalle linee ferroviarie i treni diesel, lenti e inquinanti, e Trenord manda addirittura dal deposito di Treviso una sorta di cimitero degli elefanti, 12 treni diesel vecchi di 40 anni alla stazione di Cremona. Viene persino il dubbio che la regione non sappia che cosa fa Trenord, ente regionale. Infatti l'assessore Lombardo Cavalli aveva garantito maggiore attenzione alle esigenze dei pendolari, rispondendo alla lettera del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, alla quale si era associata la richiesta del primo cittadino di Cremona. In un comunicato di stamattina, Legambiente Lombardia, riferendosi sempre all'operazione in vista di Expo 2015, aveva segnalato che i diesel anni 70, fermi da molto tempo, sarebbero stati rimessi in funzione, dopo un intervento di manutenzione, sulla Cremona Treviglio e sulla Brescia Parma, che ferma a Piadena. Dunque, se Cremona chiede di sostituire i treni diesel con quelli elettrici, Trenord fa il contrario, manda vecchi diesel anziché treni nuovi. Inoltre l'ente regionale Trenord ha ribadito con una smentita, non c'è niente di vero, i treni in realtà sono stati spostati per motivi aziendali interni. Dario Balotta, di Legambiente Lombardia, ribatte che la grave crisi del materiale rotabile Lombardo è confermata dalla ridicola smentita di Trenord. Il sistema sta scoppiando e la manutenzione delle ferrovie Lombarde non riesce a stare al passo con le necessità di treni giornalieri. Questo programma di trasferimento treni e di restyling, avviato alcuni mesi fa, vede già circolare quattro treni arrivati da Treviso, serie 1200, sulle tratte Cremona-Brescia e Parma-Brescia. Gli altri otto convogli torneranno in azione alla fine dei lavori di ripristino, per quanto poco si possano migliorare i treni diesel alle 668, particolarmente inquinanti. Intanto quattro treni elettrici alle 582 in servizio nel Cremonese e nel Bresciano sono già andati sulla Valtellina e sono stati risistemati prendendo il logo Valchiavenna, Valle Spluga e Gavia in vista delle manifestazioni periferiche dell'Expo. I vecchi diesel invece peggioreranno la situazione nella bassa cremonese, Mantovana e Bresciana, visto che la loro velocità massima sarà di 110 km orari, contro i 140 delle automotrici elettriche alle 582.